In questa baita in Alto Adige si doveva allevare bestiame. Il proprietario per questo aveva ottenuto fondi pubblici destinati allo sviluppo, dentro però di mucche neppure la traccia. A loro posto rifiniture, mobili di lusso ed ogni comfort per chi ci viveva, che proprio lì accanto si era costruito anche una funivia abusiva. Cambia scenario da nord a sud Italia, qui siamo a Catanzaro, in una fabbrica che dalga e marina avrebbe dovuto ricavare integratori dietetici. Tutto finanziato con contributi pubblici per 5 milioni di euro, questo il progetto sulla carta. In realtà quando i finanziari oggi sono entrati neppure un macchinario era in funzione, lo stabilimento era completamente abbandonato, una bufala insomma sulle spalle dello Stato, l'ennesima dell'Italia dei furbi. Ancora una volta da un blitz delle fiamme gialle emerge un quadro sconfortante che va dai soliti falsi invalidi a chi ottiene prestazioni sanitarie non dovute, esenzioni illecitamente percepite, menze scolastiche agevolate, le più classiche delle truffe. Ma questa volta i finanzieri hanno scovato anche chi ha usato tutto il suo ingegno per riempirsi illecitamente le tasche. Come quei piloti che a Verona, mentre erano in casa integrazione o in mobilità, pilotavano aerei in Medio Oriente con stipendi nero da capogiro. Senza parlare di chi in Calabria, e qui si torna al sud, si spacciava per proprietario terriero, assumeva centinaia di braccianti e accedeva così ai finanziamenti pubblici e ai sussidi dell'Inps. Il problema era che di terra da coltivare non aveva neppure un metro quadro, ma si intestava beni o di persone ignare o di persone addirittura decedute anni prima. Non è tutto. A Sassari, per esempio, in questa officina si sarebbero dovuti riparare mezzi dell'esercito usati anche all'estero nelle missioni di pace, missioni ad altissimo rischio. Ebbene, su quei mezzi, nella migliore delle ipotesi, invece di pezzi nuovi si usavano pezzi di ricambio usati, sempre che il lavoro venisse davvero effettuato e non semplicemente fatturato e non eseguito. Conti alla mano, questo ed altro. È costato allo Stato danni erariali per un miliardo e mezzo di euro, finanziamenti pubblici indebitamente percepiti per un miliardo, senza contare indennità tra disoccupazione e malattia che non dovevano essere erogate, grazie a medici compiacenti che riconoscevano invalidità a centinaia di pazienti raccomandati da politici locali. Un dato per tutti. Al termine di questa operazione, nel 90% dei casi, sono risultate irregolarità.